Dopo l'ordinanza del presidente Bardi, ridotte del 50% le navette per l'aeroporto di Bari-Palese, disposti nuovi orari anche per i bus urbani dal comune di Matera, a darne notizia all'assessore alla mobilità Tommaso Mariani. Il numero di corse sarà ridotto da 7 a 3 coppie, garantendo in ogni caso la copertura nell'intero arco giornaliero per quanto riguarda l'aeroporto. Il provvedimento è stato preso nell'ambito delle misure emergenziali per il contenimento del rischio di contagio e di diffusione del virus Covid-19. disposte dalla presidenza del Consiglio dei Ministri con successivi specifici decreti e in ottemperanza dell'ordinanza del presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, del 16 marzo, che dispone alla riduzione dei servizi di trasporto nella misura di circa il 50%, temporaneamente fino al 25 marzo. Per questo motivo è stato ulteriormente rimodulato anche il servizio di trasporto pubblico urbano. Dal comune di Matera aggiunge anche un'altra disposizione, il divieto assoluto dell'accensione dei falò di San Giuseppe. Una misura per evitare assembramenti e contenere quindi il contagio del virus e per non creare situazioni di pericolo in un momento in cui gli sforzi dei vigili del fuoco del personale sanitario sono orientati in attività ben più importanti per la comunità. È iniziata dunque la rimozione dei cumuli di legna ammassati in molte zone della città e nella serata del 19 marzo saranno disposti controlli serrati. In caso di inosservanza fa sapere il comune e scatteranno le sanzioni penali e amministrative.